Sono in attesa che il mio amico Gianfranco venga. Adesso ho salito qua sopra le mie volte. Sono andato a vedere così, tengo tutto controllo. Tutte le strade e tutte le vette. Da là si va poi a Cerenelli, il monte, sono varie montagne dove si può andare. La andiamo alle careste, qua sono altre montagne, c'è qualche scelta di montagne qua. Ho anche la nebbia, andiamo a vedere. Da questo lato qua è crescita, mi pare che faccia una chitaria. Eccoci qua, però vedi come è bello pure, a me mi affascina pure, anche se là è micidio, la scena e scena e scena pure volentieri. Ma assaglio, appunto, lo sai gli chiusi, per me che scappola tenga. Però in mezzo della vita, tu immagini e tutto là, non scena nessuno, vedi quando c'è l'estate. Secondo perché la uscita si vanno a metterla? Perché lei è difficile, il culo cacciatore se lo mette la bascia. No, e scende che poi sapete a dove va, perché due scende sull'anno, sono in discesa. E poi sapete a che parte va. Guarda, 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 che prato. Guarda che prato, che bosco. Niente, niente da fare, stiamo proprio sulle tracce. Guardate, siamo sulle zeppole di San Giuseppe, non so come cacchi ha fatto. E questo mi sa che aiuto, c'è un appuntamento che mucchio. Questa ce l'abbiamo davanti a noi, ma sarà più di una, non credo che una solo che hai male di panza, vedi? E questo ci abbiamo la fortuna, ci sta dicendo dove andare, vedi? E ora la troviamo là, la troviamo. Guarda qua. No, no, questa è l'impronta, l'impronta di Luca Cristiano. Sì, sì, qualcuno ci sta, guarda, vedi? Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Allora, aspetta un attimo, cacca. No, sono ancora ciò andanza, no, si aiuta una parte che può che sapere. No, ancora ciò andanza, allora. Chiede le volte, sai cos'è? Con il passato del tempo, i ricordi, i accorci avversi, quando mi dicevo, non ci credo. Accorci i sentieri, ti ricordi le cose più importanti, e ti ricordi, no, è curto il sentiero, invece, fortunatamente ci stanno in mappa e cosa. Quello se carica, eh? Mucca, non caricare niente, eh? Fatti la mangiata. Brava. E sono le gambe. Siamo arrivati finalmente alle Crest veramente stavolta. Sì, sì, qua siamo arrivati. Purtroppo ci ha avuto la sfortuna di trovare una giornata nebbiosa oggi. L'ultima salita. Buongiorno. Questa è solo le Cresta. Ma andiamo più là, dove gli fa vedere la tua sentieri. Questa è un po' che cava, però... Questa nebbia non ci voleva. Questa nebbia non ci voleva. Questa nebbia non ci voleva. Questa è la nebbia che sale. Sei stato fortunato oggi. Eh, capita, capita. Succede. Come è questo punto principale. Cioè, come... È più bello qua. È la madonna. Qua si doveva succedere. È lo posto buono. Questa è la famosa Cresta, che dice le Cresta. Vedi che profondità che sta, vedi? Guardate, Bosco, pieno di nebbia. Queste sono le famose Cresta. È vera la direzione. A parte che secondo me sono un po' di sentieri. Puto in pure a vera, non so, fino a che punti arriviamo. Che di solito mi ha fermato il caldo. Non è mai continuato, almeno così mi ricordo. Ehi, ti stai riposando o ti stai nascondendo dal padrone? Che stai facendo? Guarda, guarda. Allora, mi rimane a calzare. Ah, vedi come sei bello, vedi? Peccato che tu sei un... Un pezzo da macello. Chissà che... E se ne c'è, sei un vitello o una... Ine, riesco a...